Dopo l'inaugurazione della prima parte del parco urbano qui all'aeroporto di Fano, l'amministrazione comunale oggi ha presentato il progetto di fattibilità di riqualificazione e recupero della casetta che vedete alle mie spalle. La struttura, meglio conosciuta come la casa del custode, è stata costruita nel 1931 e attualmente non rispetta le norme antisismiche in caso di terremoto. Il progetto, presentato dai tecnici del Comune, prevede la conservazione della struttura esterna, mentre al suo interno un vero e proprio ammodernamento secondo le più avanzate tecnologie di oggi. Internamente prevede la rimozione della vecchia struttura e con il mantenimento solo delle mura perimetrali. In questa maniera si va a mettere una nuova struttura in acciaio e muratura che garantisce dei livelli di efficienza dal punto di vista sismico portando a livelli contemporanei. Tra i vari interventi anche una rampa per l'accesso a persone diversamente abili e un'importante operazione dal punto di vista energetico attraverso una serie di accorgimenti che renderà la struttura di classe energetica A3. Quattro invece i punti che caratterizzeranno la casetta per un totale di 191 metri quadri. Costo complessivo dell'opera 366 mila euro. Avremo tre macro aree, io le chiamo macro aree perché sono molto ampie, più il soppalco che naturalmente danno la possibilità all'amministrazione di poterla gestire nel miglior modo possibile, poterle frazionare oppure mantenerle inalterate a seconda di quelle che sono le diverse destinazioni d'uso che muteranno probabilmente nel tempo perché la casa del parco rappresenterà il punto di ingresso al parco, però nulla vieta che possa nel tempo avere, a secondo delle diverse necessità, delle variazioni. Soddisfazione dall'amministrazione comunale che vede piano piano crescere il progetto di un parco urbano al servizio di tutta la città. È un bel progetto anche sotto l'aspetto architettonico, di qualità, che tiene conto anche di tutte le caratteristiche ambientali perché ormai ci siamo spinti anche in questa direzione come è giusto che sia, quindi abbiamo approvato le positive attività, adesso andremo all'esecutivo e poi all'appalto, insomma l'obiettivo è in un anno e mezzo di realizzarlo.